Da San Candido in Alto Adige fino alla Sicilia, il vino dell'oltrepopavese è stato protagonista negli scorsi giorni in una trentina di enoteche italiane selezionate dal progetto Vinarius. Una settimana per far conoscere il pino nero vinificato rosso attraverso i preziosi consigli degli esperti enotecari. E naturalmente questo incontro con trentina di enoteche italiane, vino di qualità, non solo italiano ma anche del mondo, fa sì che il produttore e il consumatore conoscono la nostra eccellenza l'oltrepop. In un trepopavese si trovano tre quarti dei vitigni italiani coltivati a pino nero per una superficie complessiva di 3.000 ettari, 20 le cantine che hanno partecipato alla settimana di divulgazione denominata Oltrepop Wine Experience. Uno di questi momenti di divulgazione è quello che stiamo trattando in questi giorni, che è la settimana della Wine Experience dell'oltrepop, in cui andiamo con i nostri clienti a far assaggiare, degustare e presentare il territorio dell'oltrepop, non solo il vino. Quindi andiamo a parlare anche di riso, in questo caso, di salumi e di prodotti che si possono trovare sul territorio, che poi sono anche i prodotti che vanno a fare gli abbinamenti con i vini del territorio. Importante, e non in secondo piano, perché è sempre legata alla storia del vino, la cultura e l'arte, quindi anche quello che rappresenta artisticamente e culturalmente un territorio attraverso la bottiglia di vino. Il contatto diretto tra cliente ed enotecario diventa fondamentale per la scelta del vino giusto, come spiega l'esercente di una bottega storica del quartiere Brera di Milano, l'Enoteca Cotti. Rispetto a uno scaffale di una GDO, dove molto spesso hai lì una fila di bottiglie anonime, se non con qualche nota sull'etichetta, però invece il contatto personale, il poter parlare con una persona che ti può raccontare, a cui tu puoi raccontare, perché il nostro cliente generalmente ci dice stasera ceno con questo, questo, questo. Che cosa mi consigli? E questa è la grande gioia e la grande soddisfazione. Dialogare, dire guarda con quello che mangi stasera io ci berrei questo. Questa è la grande gioia.